Commentare questa partita è veramente difficile. Noi all'inizio abbiamo approccio a volte molto sbagliato, poco attento, dopo non è la prima partita. Ho cercato di evidenziare questo, perché anche all'inizio, secondo tempo, è successa la medesima situazione. E sì, quell'episodio è fortemente determinato, perché dopo aver fatto anche un primo tempo molto decoroso, perché la squadra ha avuto la forza, anche le idee per cercare di recuperare, siamo rimasti in partita fino a 10-15 minuti dalla fine. Non lo so, forse è anche il primo caldo, però dopo aver profuso uno sforzo così importante, alla fine non fa testo, perché cercavo di forzare per rientrare dentro, cercare di fare qualcosa di importante, perché dovevamo cercare di fare risultato. E poi gli ultimi 12-13 minuti ho provato a forzarla. Hanno fatto un buon primo tempo sotto il profilo della dignità, dell'impegno, non posso rimproverare niente. Adesso bisogna fare uno sforzo in vista del rush finale. Insomma vince una partita, questo mi sembra evidente.